Quale cover hai scelto e con chi canterai? Ho scelto una cover di un brano che ha portato il successo a Caterina Caselli, porta la firma anche di Conte, di Pallavicini, grandi nomi, eccetera, si chiama Insieme a te non ci so più. Ho chiesto una grande cantante al mio fianco e lei è accettato, lei è Anna Lisa e io sono felicissimo. E noi siamo felicissimi che ci sia Anna Lisa vicino a te perché la canzone è pazzesca. Anna Lisa che sarà presente con molte persone che sono in questo album, anche a questa che non è l'unica ma è la prima data di un tour, dicevi, lunghissimo, che partirà il 6 marzo da Milano e andrà fino a settembre.